Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! Miracle! Nanananana, miracle! Raga, sono impaziente, non vedo l'ora che ricomincino i nuovi episodi delle mie amiche Miracle. Volete sapere una curiosità su di loro? Nella serie hanno recitato in inglese. È un nuovo giorno alla casa delle Miracle Miracle. Emily è in camera e si sta truccando. Giulia e Jasmine sono in cucina a fare colazione. Uh, la torta al cioccolato, la mia preferita, me la mangio subito Ma Giulia, ma sei sicura di mangiarti anche quello? Ma certo, infatti vi mangio anche questo cupcake No, ma pure quello ti mangi Ma certo Dai, ma stiamo scherzando Tra l'altro come fai a rimanere così magra e a mangiarti pure il tavolo con le sedie? Sempre tutti i giorni così Se no non riesco a svegliarmi Emily, scendi a fare colazione Un piccolo cappuccino Emily, allora, ma quando scendi? Quel cupcake era troppo piccolo Ma io ho questo Emily, ancora su, sei? Eh sì, una mangia e una non scende Ma Che altro potrei mangiarmi? Uh, guarda Un cactus Eccomi, sono pronta Ah, adesso ci vuole una bella colazione Eh, ragazzi, che cosa c'è per colazione? Eh, sei arrivata un po' tardi Perché? Sono rimasti soltanto i croccantini del cane Oh no, non dimmi che Giulie si è ancora mangiata tutto Ecco, già ti fida dalla risposta Beh, però ho mangiato pochissimo Eh sì, in effetti, guarda In effetti il mobile non l'hai mangiato Eh Ragazzi, comunque dobbiamo prepararci Dobbiamo uscire Prendete tutte quante le vostre cose E dobbiamo andare Che ragazzi dovevano partire per la tournée È solo che dovevano portarsi tantissime cose E le loro valigie I loro zaini I loro borzette Non erano poi così capienti Ma non entrerà mai tutto quanto qui dentro Mi serve un'altra borsa Oppure una busta Oppure una valigia Oppure oh, ma come faccio? Anche Giulie e Jasmine Sembravano avere lo stesso problema No, ma io vestiti, bacchetta E tutto il resto qui dentro E quando riesco a infilarli? Oh, questa borsetta Non va proprio bene E tu, Giulie, come stai messa? Ma stai scherzando? La mia borsa Entra pochissimo cibo Morirò di fame subito Ragazzi, un problema La mia borsa è troppo piccola Pure la mia Stesso problema Come possiamo risolverlo? A chi possiamo chiedere? A Peppa Pig? No Chi dia con le LOL Ma sono più piccole di noi Avranno delle borse piccole Ah, è vero Possiamo chiedere i pigiamini Ma tu li hai mai visti con delle valigie o delle borse? Eh, no Aspetta Forse ho un'idea Chiediamo a Barbara e Lara Barbara Lara Ciao ragazzi Che succede? Mi succede che dobbiamo partire per la tournée Abbiamo delle borse microscopiche Veramente piccole Non entra nulla E quindi non possiamo partire Forse ho quello che può fare al caso vostro È vero? Sì, perché Molti giorni fa Eppi Ah, quello di Mega Wow Sì, sì, esatto Proprio lui Eh, lo seguiamo sempre Noi guardiamo sempre il canale di Mega Wow Ci piace tanto Oh, anche a noi Ci ha mandato un pochettino con delle cose dentro Che sono proprio della vostra misura E cosa saranno? Che cos'è? Siete curiose? Sì, 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 sì Allora, per scoprirlo dovete venire di là con me Sul tavolo degli unboxing Arrivo Anche noi Ecco qua ragazzi Che ne pensate? Trucchi Una bambola e trucchi E qui dentro ci sarà Kelly E qui dentro ci sarà Kelly Allora andiamo a vedere la nostra bambolina Eccola qui Allora Kelly Apriamo piedini Chiudiamo il gancio Tiriamo sulla tè Oh, che capelli lunghi Kelly E chiudiamo Che carina Ha le codine Proprio come quelle di qualcuno Giulia, la vuoi tu questa? Certo, certo Ci puoi mettere un sacco di cibo qui, eh? Certo Queste sono proprio io Scusate E io? Non ti preoccupare, Emily Ho aperto le altre Adesso te le faccio vedere E potrai scegliere la tua Kekilu E vai Dove sono? Eccole, sono qui Ma dove? Qui? Eccole qui Adesso dovrai scegliere Loro sono Joyce Oh, che carina Biondina come me Già La seconda è Nicole Oh, carinissima Bei colori Molto bella E l'ultima? L'ultima si chiama Gwen Oh, che carina Ma non sta in piedi? No, cadevo di contigo Ah, ecco Ok Allora, scelgo, scelgo Io scelgo la biondina È come me Che dici? Mi sta bene? Sì, sì, sì Ti sta veramente benissimo Bene Adesso che avete i vostri zainetti Kekilu Potete finalmente partire per la vostra tournée Sì, grazie Barbara Ci hai veramente salvate E ragazzi Vi siete divertiti Se vi siete divertiti Iscrivetevi a Mega Wow Perché ci sono video bellissimi di creator Super tosti E soprattutto c'è Happy Che è troppo divertente È troppo carino E poi ha quegli occhioni così teneri È veramente super Anzi È Mega È Mega Wow Esatto E seguite anche noi Perché nel canale Barbara D'Alessandro Faremo il seguito di questa puntata Con le Miracle Tunes Quindi continuate a seguire tutti e due i canali E come mi piace chiudere sempre i nostri video Con un bacio a tutti quanti Ciao ragazzi Mi sono troppo divertito A vedere le mie amiche in versione giocattolo Sono veramente uguali alle originali Ma quando faranno anche una mia versione a pupazzo? Ah Io sono già un pupazzo Beh scusate Sono un po' stordito E voi che mi dite Qual è la vostra Miracle preferita? Scrivetemelo nei commenti E iscrivetevi al canale Ciao